Musica Musica No, 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 no. è vero in regio se volete a qui non c'è una piota non c'è un vujo non c'è un vujo non c'è un vujo ma c'è un progetto il ristorante ne c'è un rite e ora tu ti metti ma tu non c'è un vujo tu e anche un tavo lino io ti pari, tu hai fatto la mia moglie, per te ovo da una moglie, non ti pari? Cosa? 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 Cosa scoperta... Cosa? 5 mesi che servono a un'applicazione, e tu hai moglie, non mi la moglie... ...e non ci vuole, se non hai problemi, se ti pari a un'altra moglie, tu hai moglie... ...e che... e che ti pari? ...e che te rappi?